Gatti morti evidentemente uccisi, alcuni dentro una busta di plastica. L'angolo degli orrori si trova all'ingresso di un immobile di proprietà del comune che ha compiuto questo gesto criminale agito indisturbato come chi poco più in là ha lasciato questo materiale di risulta con tanto di cassone. Siamo sullo svincolo di San Filippo a pochi metri dall'incrocio con la strada statale 114. L'immobile davanti al quale è possibile commettere reati ambientali e contro gli animali rimanendo inosservati ed impuniti, è nei progetti un centro polifunzionale. In realtà oggi è solo luogo abbandonato con gli interni difesi da grate in ferro per evitare occupazioni abusive o atti vandalici anche nelle stanze. Ed in attesa che il comune fornisca risposte sul recupero dell'immobile stupisce come un marciapiede in un luogo non certo isolato possa essere letteralmente terra di nessuno. Se le istituzioni e le forze dell'ordine non l'avessero notato lo denunciamo noi pubblicamente. Qui qualche vigliacca ha ucciso dei gatti indifesi ed è certamente la cosa più grave. E sempre qui qualcuno si sente libero di abbandonare materiali di ogni tipo. Tanto sa che nessuno controlla.